e adesso si va sempre con Garinei partiti in vantaggio Zaraieva davanti a Battier, Hansberger, Garinei Lady Becky Ciumbalicca, Dran Drago Piccinette Sincotti White Flower, Pane e Cioccolata all'inizio della curva è in vantaggio Battier davanti a Lady Becky Pane e Cioccolata Garinei Ciumbalicca Sincotti Roero poco prima dell'ingresso di Tura è in vantaggio Battier davanti a Lady Becky Garinei e Ciumbalicca i cavalli entrano in vittura con Battier in vantaggio lungo la corda davanti a Ciumbalicca Garinei Dran Drago Zaraieva Lorando Ileni Lady Becky Capitan Mattia White Flower in vantaggio Battier attaccata all'esterno da Ciumbalicca seguono Garinei Capitan Mattia a centropista Roero per linee interne e in vantaggio Battier attaccata all'esterno da Roero a centropista Capitan Mattia compiò all'esterno White Flower passa Roero davanti a Battier Sincotti per linee interne Pontatir e in vantaggio Roero davanti a Sincotti Pontatir e White Flower Eccolo Roero sul traguardo il mio Roero il numero 10 Samuele Diana per il training di Casa Camici 34 la quota del vincente di Roero numero 10 andiamo a Torino poi torneremo magari sul Roma a Torino a Torino e in vantaggio